Nella lezione precedente abbiamo visto il concetto di momento di una forza, un concetto di momento di una forza che non avrebbe senso nella dinamica del punto materiale. Quando facciamo l'approssimazione al punto materiale non dobbiamo parlare di molte cose, come ad esempio il momento di una forza. Adesso, in questa video lezione, dopo aver visto il momento di una forza, adesso dovremo vedere la risultante di un sistema di forze parallele e equiverse, però di forze applicate, cioè che abbiano un punto di applicazione. Perché un altro concetto che non ha senso, non è importante nella dinamica del punto materiale è proprio il concetto di punto di applicazione. Nella dinamica del punto materiale avrei notato che abbiamo parlato sempre, per esempio, di forze applicate, ma dei vari vettori di cui si parla non è necessario specificare il punto di applicazione, cioè il punto in cui essi sono applicati. Anche perché se abbiamo un punto materiale e una forza che agisce su di esso, la forza può agire solo su quel punto materiale. Quindi non è necessario, diciamo, specificare dove agisca perché è ovvio che agisca su quel punto materiale lì. Invece vedi, se il sistema è fisico e esteso, dobbiamo dire in quale punto del sistema la forza agisca. Hai visto con l'esempio della forza, con l'esempio della porta nel momento, che se io applico la forza nella maniglia, allora riesco ad aprire la porta più facilmente. Se invece la maniglia fosse applicata nel mezzo della porta o addirittura sull'asse di dotazione, quella porta non si aprirebbe. Per cui il punto in cui una forza viene applicata comincia ad essere stramaledettamente importante nella dinamica dei sistemi fisici estesi. E allora utilizzeremo il concetto di momento proprio per vedere, per risolvere il seguente problema. Abbiamo un sistema di due sole forze, per semplicità solo due, ma è chiaro che l'aggiornamento potrebbe stendersi a un numero qualunque di forze. Abbiamo un sistema di due forze parallele ed equiverse. Qual è la risultante di questo sistema di due forze? Beh, qual è la risultante? Lo sappiamo già perché per sommare due vettori paralleli non dobbiamo fare altro che sommare i loro moduli. Chiaro? Ma se i due vettori sono liberi, ecco, il vettore libero è il contrario del vettore applicato. Quindi se i due vettori sono liberi, come faccio a sommare due vettori paralleli ed equiversi? Devo utilizzare un vettore, la somma di due vettori paralleli ed equiversi è un vettore che ha per modulo la somma dei moduli. Ecco, se però i due vettori sono applicati, dove potrò applicare il punto d'applicazione, cioè dove potrò situare la risultante di queste due forze? Nel senso che abbiamo un sistema di due forze parallele ed equiverse. Lungo la congiungente i punti di applicazione e dei punti di applicazione delle due forze, dove potrò applicare la risultante? Che il modulo della risultante sia pari alla somma dei moduli delle due forze? sapassandir, diremmo in francese. Questo è ovvio. Il modulo della risultante sarà sempre pari alla somma dei moduli delle due forze. Ma il punto d'applicazione della risultante, dove sarà? Ecco, questo adesso è necessario sapere. Ho una forza, per esempio, applicata qui, un'altra forza applicata qui. La risultante del sistema costituito da queste due forze, dove sarà applicata? Allora, per semplicità considereremo due forze parallele ed equiverse e con un semplicissimo ragionamento, basato proprio sul concetto di momento, ti farò vedere come risolvere questo problema. Però, che c'entra il concetto di momento? Praticamente noi riusciremo a capire dove applicare la risultante di due forze parallele ed equiverse, basandoci sui momenti. Cioè, il punto di applicazione della risultante verrà, diciamo, stabilito in base al seguente ragionamento. La forza F1, per esempio, applicata a destra, dunque, avrà un momento rispetto a un determinato polo. La forza F2 avrà un altro momento rispetto a un determinato polo. Come ti applico la risultante lungo la congiungente delle due forze? Semplicemente ammettendo che il momento della risultante, rispetto allo stesso polo, debba essere uguale alla somma dei momenti delle due forze. Tutto qui. Quindi noi, vedi, l'arrazio del problema deve essere chiara. Noi appliceremo, riusciremo a capire dove applicare la risultante, diciamo, imponendo l'eguaglianza dei momenti. Perché la risultante, come modulo, deve essere pari alla somma dei moduli delle due forze. Ma deve essere applicata in un punto tale che il momento della risultante è uguali alla somma dei momenti delle due forze applicate. Chiaro? Con un disegno, ovviamente, arriveremo subito alla conclusione. Allora, consideriamo quindi, per il momento, due forze applicate però in due punti particolari. Per esempio, ecco, lungo questa congiungente applico nel punto A la forza F1 verticalmente, ammettiamo verticalmente verso il basso, e nel punto B la forza F2, magari più piccola. Ammettiamo che F1 sia di intensità più grande e F2 di intensità più piccola. Allora, praticamente, la risultante R, vedi, come modulo sicuramente sarà uguale a F1 più F2. Il modulo della risultante sarà pari al modulo della somma. Però, dove andrò ad applicarla? Quindi, dico A il punto di applicazione di F1, dico B il punto di applicazione di F2. Vedi, forse intuitivo però, noi ora lo dimostreremo rigorosamente, che la risultante sarà più vicina alla forza più grande, no? Quindi, per esempio, potremmo pensare che la risultante sia applicata qua. E se deve avere modulo pari alla somma dei moduli, all'uncirca la risultante verrà questa. Vedi, R che è uguale a F1 più F2. Ecco, diciamo P il punto di applicazione del risultante, la cui posizione ancora non abbiamo identificato. Allora, ti ho detto, calcoliamo il momento di F1, calcoliamo il momento di F2 e imponiamo che il momento della risultante sia uguale alla somma dei momenti di F1 e di F2, rispetto a un determinato polo, chiaramente. Per semplicità, scegliamo il polo, per esempio qui, il polo O, sulla stessa linea, sulla stessa retta della congiungente AB, le due forze. E indichiamo con L questa distanza, la distanza dalla seconda forza, per esempio F2, al polo. Quindi, il momento di F1 verrà da noi calcolato rispetto al polo O, il momento di F2 rispetto al polo O. Quindi sarà il momento della risultante rispetto al polo O che dovrà eguagliare la somma dei momenti sia di F1 che di F2, chiaro? E allora, procediamo molto semplice, anzi, una cosa, il punto P come verrà identificato? Ma verrà identificato dalla distanza di 2 dalla forza F2 e dalla distanza di 1 dalla forza F1, no? Diciamo D1 la distanza di F1 da dove vedremo che verrà applicata la risultante. Diciamo D2 la distanza da dove vedremo che verrà applicata la risultante della forza F2. Allora, con queste notazioni, vedi, D1 è questa distanza, D2 è quest'altra distanza, L invece è la distanza dalla forza F2 dal polo che abbiamo scelto rispetto a cui calcolare il momento. Ovviamente il polo rispetto a cui calcoliamo i momenti è arbitrario, però tutti e tre i momenti dovremo applicarli rispetto a quel polo lì. E allora, calcoliamo il momento di F2, il momento rispetto al polo O della forza F2. Dobbiamo fare per il momento, adesso un ragionamento soltanto scalare e quindi qui non rileva il fatto che il momento debba essere un vettore. Il momento di O rispetto a F2 è di calcolo immediato perché è semplicemente L per F2 o F2 per L, che dir si voglia. Chiaro? Perché L è perpendicolare a F2 per ipotesi e quindi il momento è F2 per L, modulo della forza per il braccio, questa distanza qua dal polo. Chiaro? Qual è il momento, sempre distesso allo stesso polo però, di F1? Ecco, vabbè, che F2 e F1 siano delle forze e dunque dei vettori possiamo rimarcarlo. Qual è? E allora, sarà F1 per la distanza dal punto di applicazione del F1 al polo, qual è? È L più di 2 più di 1. Chiaro? Non è soltanto L, ma è L più di 2 più di 1. Va bene? Quindi il secondo momento, diciamo, è F1 che moltiplica di 1 più di 2 più L. Fin qui ci siamo? Spero di sì. Mi sembra una cosa molto semplice. Se hai capito bene, seguito bene la lezione sul momento della lezione precedente, questo dovrebbe venirti uno scherzo. Allora, qual è il momento, sempre rispetto O, del risultante R? Allora, il modulo della risultante che è F1 più F2, per, ecco, il braccio, cioè la distanza fra il punto P e il punto O, qual è? Ma è evidentissimo dalla figura che è L più di 2, o di 2 più L, che dir si voglia. Mi spiego? Quindi, di 2 più L. Chiaro? E allora, se io devo imporre che il momento rispetto O di R sia uguale al momento rispetto O di F1 più il momento rispetto O di F2, cosa devo scrivere? Devo scrivere che la somma dei due momenti, quindi F2 per L, che è questo, no? più F1 per D1 più D2 più L, che è quest'altro, è uguale al momento della risultante, che è F1 più F2 per D2 più L. Mi spiego? Ci siamo? Svolgiamo, svolgiamo i semplicissimi calcoli indicati a livello, diciamo, di, non so, non dico terza media, ma primo superiore, e abbiamo F2 per L più, svolgo questa moltiplicazione, F1 di 1 più F1 di 2 più F1 L uguale F1 di 2 più F1 L, più F2 di 2 più F2 L. Chiaro? E ora notiamo una bella cosa. Praticamente, allora, F1 di 2 più F1 L più F2 di 2 più F2 L, pardon, qui abbiamo F2 L, l'ultimo termine del prodotto. E allora, che cosa notiamo di bellissimo? Notiamo di bellissimo che F2 L sta al primo membro, F2 L sta al secondo membro, e quindi li togliamo. Notiamo poi di ancora più bello che F1 di 2 sta al primo membro, e F1 di 2 sta anche al secondo membro, e quindi lo togliamo. Notiamo ancora di più bello che F1 L, e F1 L, vedi, stanno uno il primo membro nel secondo membro, e quindi li togliamo. Vedi? L'espressione appena ottenuta si semplifica notevolmente, perché in definitiva cosa abbiamo? Al primo membro rimane solo F1 di 1, al secondo membro rimane solo F2 di 2. Chiaro? Ecco, questa è la relazione che volevamo cercare. Perché? Che cosa otteniamo praticamente se F1 di 1 è uguale a F2 di 2? Praticamente noi possiamo anche scrivere che F1 sta a F2, proprietà delle proporzioni in definitiva, F1 diviso F2 uguale a D2 diviso D1, cioè F1 sta a F2 come D2 sta a D1. E così abbiamo ottenuto quello, il risultato che volevamo ottenere. Cioè, praticamente, vedi, abbiamo scoperto che dove deve essere applicata la risultante. La risultante è sicuramente applicata più vicino alla forza più grande e più lontano dalla forza più piccola. Perché F1 sta a F2 come D2 sta a D1. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le distanze del punto di applicazione della risultante dalle forze sono inversamente proporzionali all'intensità delle forze stesse. Quindi, D1, che è la distanza della risultante da F1, è più piccola di D2, che è la distanza della risultante da F2. Semplicemente perché F1 ha un'intensità più grande di F2. Quindi, vedi, praticamente, la forza risultante di un sistema di forze parallele ed equiverse è, dunque, inversamente proporzionale all'intensità delle forze. Quindi, la risultante si troverà sempre più vicina alla forza di intensità più grande. Con questa formula, quindi, è immediato calcolare il punto di applicazione della risultante, perché note che siano tre grandezze, è chiaro che si possa calcolare alla quarta. Questo, che cosa ci fa capire? Dal punto di vista fisico, ci fa capire una cosa importantissima. Faremo una lezione a parte sul baricentro. Baricentro non è il centro della città di Bari, come si dice, qua siamo, trasmettiamo da Reggio Calabria, ma è il centro della forza peso, cioè il punto in cui dobbiamo immaginare che sia applicata la forza peso di un sistema esteso. Baros, in greco, significa peso. Quindi, baricentro è proprio il punto d'applicazione della forza peso. Allora, vedi, per esempio, se abbiamo un oggetto esteso, come potrebbe essere anche questa penna, eh? Un oggetto esteso. Io, dove devo pensare che la forza peso totale di questa penna sia applicata e che la farebbe cadere se la mollassi? L'oggetto esteso si deve considerare suddiviso in tante piccole porzioncine, a ciascuna delle quali avrebbe il suo vettore forza peso applicato verticalmente verso il basso. Mi spiego? Il baricentro è il punto d'applicazione della forza peso totale, cioè noi dovremmo prendere le forze peso di tutti i punti in cui possiamo pensare suddivisa la penna, fare la risultante esattamente come ho fatto io adesso, ovviamente la faremo due a due, no? Se dobbiamo avere la risultante di dieci forze parallele, in un sistema di dieci forze parallele, le sommiamo a due a due esattamente come ho fatto adesso, e dove risulta il punto d'applicazione della risultante? Quello sarebbe il cosiddetto baricentro di questa penna. Allora, per quello che abbiamo visto prima, è chiaro che il peso di una massa più grande è più grande, il peso di una massa più piccola è più piccolo. Quindi questo è il motivo per cui il baricentro di questa penna, come di una qualunque penna, normalmente è spostato verso l'astuccio, verso la tua destra, perché essendoci appunto qui l'astuccio, abbiamo un peso maggiore. Questa penna sicuramente ha un peso maggiore sulla tua destra anziché sulla tua sinistra. Chiaro? Quindi il baricentro di questa penna sarà spostato più sulla destra che non sulla sinistra. Vedi, se la penna fosse omogenea come questa, questa è una penna molto più omogenea di questa, allora il baricentro, delle considerazioni anche di simmetria, ci suggeriscono di dire che il baricentro è esattamente nel centro geometrico. Infatti, vedi, se io metto il ditino esattamente al centro di questa penna, praticamente, ecco, anzi, vedi, leggermente spostato dalla parte dell'astuccio. Chiaro? Metto il ditino esattamente sotto il baricentro, la penna non cade. Se io invece mettessi il ditino non sotto il baricentro, ma sotto un altro punto, la penna cadrebbe. Ci sarebbe un momento che farebbe cadere la penna. Anche in questo caso, il baricentro di questa penna è spostato verso la tua destra, verso la mia sinistra, verso la tua destra, perché qui, da questa parte, la penna pesa di più. Infatti, se io mettessi il ditino al centro, la penna cadrebbe. Però, se sposto il dito un po' verso la tua destra, la penna non cade, perché il baricentro, appunto, è spostato sulla destra. In definitiva, non so, se abbiamo un sistema fisico, e per esempio così, con una massa, no, di questa forma, con una massa concentrata da questa parte, è chiaro che tu ti aspetti che il baricentro di questo sistema è più verso la tua sinistra che non verso la tua destra. Chiaro? Ovviamente svilupperemo queste considerazioni comunque anche nella lezione successiva interamente dedicata al baricentro e alla sua differenza col centro di massa di un sistema esteso. Grazie dell'attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.